le discoteche sono morte e insieme a loro anche i dj e il pubblico è rimasto chiuso in casa ma i dj per sopravvivere sono disposti a tutto come chiamare la gente a casa per intrattenerla i loro sono christian e marco eccoci qua siamo tornati a farvi ballare come tutti i giorni sei pronta a cantare con noi vai ma poi avanti tu adesso canta questa panico pa panico pa panico pa paura adesso che ti abbiamo fatto ballare sei contenta cosa ci puoi mancelà ce lo puoi mandare qualcosa su paypal ce l'hai no paypal no io so cosa mi piace a vent'anni e noi c'è da paypal ci mandi soldi su paypal e parla con le nonni eh facciamo così passiamo noi in macchina ci fai un piatto di piatto di pasta passiamo a cosa so si vieni vieni cosa ci fai da mangiare eh mi ha trovato a mangiare eh mi ha trovato a mangiare ci fai sui cagliatelli eh eh un posto a tavola che c'è un amico in più bellissimo un posto a tavola segnala che c'entri pure tu gli amici in questo servono per stare in compagnia è vero bravissimo parla pericola che meraviglia vai vai che te arriva l'infarto vai è bono vado Ennio siamo noi pronto PEPPE מ� people PEPPE ma che c'è di DJ Siamo i due DJ da casa Porco ancora Ma che cosa volete Vogliamo farti compagnia e farti ballare Ma siamo in ritardo Ma come è la compagnia Vai siete due bastardi La cosa vuoi Ehi Ehi Bastardo Ma che c***o Ci può sapere Hai sbagliato il numero No 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 Noi facciamo intrattenimento Visto che le discoteche sono chiuse Non possiamo lavorare Allora intratteniamo le persone da casa Vai l'amica Vai l'amica Vadovi a lavorare Vai 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 stavano sei pronto che c'è? sei pronto vai vai tua madre qua su 6 non ti conosco Egnio, allora noi facciamo vamos a la play e tu oh 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 oh, sei pronto? Egnio, sei contento che ti stiamo facendo ballare, ti intratteniamo in questa giornata, tu ma sempre piena di merda? Igonelo! Vado alle chiapta nel culo! Ballo a Como, местobra Picio, bello! E con il colapso, vai tv che faccia! Hai gal球! Non possiamo, le discoteche sono chiuse, non abbiamo più lavoro, lo stiamo facendo così. Ma che troppo ci sono tanti di cui vei posti, ma ti prendono in campagna, vai a lavorare in campagna, è un brutto bastardo. Senti, non è che ci puoi mandare due panini con un affettato, ci abbiamo fame, sai, non lavoriamo da tanto. Due panini? Ma dai è un gesto da amico. Vai! Prescite il panino, vai! Prescite il panino, lo stai! VASTA AL CURO! Su le mani, Ennio! C'è un sacco di gioco in mezzo, gioco in piccola merda! La cosa più bella che mi hai fatto qui da l'esera! sono in mezzo al campo bravo Wender, bravo Joel bravo, bellissimo sto blocco bravissimi, finalmente non sono le scenette di Paolo ti fanno fare anche delle robe creative